PlaySubi Siena Top 10 Ecco gli essi i migliori eventi della settimana a Siena e provincia Sigla! Venerdì 1 dicembre le Grasce, i Cibari e i Toscani a Siena vi aspettano per la serata dedicata all'Olio Novo tante buone bruschette classiche e fantasiose venga con l'Olio Novo Venerdì 1 dicembre Gastronomia Morbidi a Siena presenta Serata Panettone chi ha detto che il panettone può essere solo un dolce? Panettoni non solo come semplici dolci natalizi ma anche come abbinamenti per pietanze salate tutto questo sarà accompagnato da buonissimi cocktail e vini Sabato 2 domenica 3 dicembre in Piazza del Campo torna per la decima volta il mercato nel campo i migliori prodotti italiani e non sia alimentari che artigianato degustazioni dei vini e tanto divertimento dalle 8 alle 20 Giovedì 7 dicembre Chico Colle a Colle di Valdelsa vi aspetta per la pizza fritta Quali saranno i toppings della settimana? Giovedì 7 dicembre Levanto Poeira Serata Brasiliana con cena a tema e live music a Valle Chiara musica, allegria e divertimento Venerdì 1 dicembre nuovo appuntamento settimanale del The Rock Live in Piandovile protagonista questa volta la splendida voce di Bruna Giugno che torna sul palco con il suo duo Be June Venerdì 1 dicembre i Parolai a Siena presenta il live di Mononome un musicista producer greco che dal 2011 è l'esponente di punta della scena musicale elettronica ellenica dalle ore 20 ai Parolai Venerdì 1 dicembre la capannina a Quercegrossa presenta la musica live con i Tempura Rock Band cover dei brani rock più famosi accompagnati da eccellenti aperitivi e drinks come ogni mercoledì Meat Life Cafe vi aspetta per Meat Art & Wine nuovi abbinamenti vino arte vi aspettano dalle ore 19 mercoledì 6 dicembre Teatro Vittoria Alfieri a Castelnuovo Berardenga presenta Bestia che sei di e con Stefano Benni al suo fianco la bravissima Angela Finocchiaro divertimento garantito se ti è piaciuta questa puntata faccelo sapere nei commenti tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti se vuoi essere al top condividi e metti mi piace possa fare video taggando Playstube Siena quando partecipi a qualche evento per avere più visibilità se ti interessa un approfondimento contatta la nostra redazione ci vediamo la prossima settimana stesso giorno tanti posti diversi ciao da Carolina e Playstube Siena ciao